Tanto tempo fa in cena c'era un mostro chiamato Nien, nascosto nel fondo del mare, ogni volta esce dal mare il giorno prima dell'anno, chiamato Tusi, per mangiare le persone. Loro non sapevano come farlo andare via, ma un giorno una persona ha tirato un petardo e il mostro spaventato se ne andò, e le persone hanno capito come farlo andare via, e ogni volta quando esce in quel giorno viene chiamato Nien.